Pillon, io direi di parlare subito dell'ultima mezz'ora, un Pescara bello come qualche mese fa che ha creato un'infinità di palle gol, rammaricato per non averla vinta o contento per questa prestazione e per i risultati che sono arrivati dagli altri campi? No, contento della prestazione del secondo tempo, specialmente nell'ultima mezz'ora, volevamo vincere la partita, non siamo riusciti a metterla dentro perché in alcune circostanze o il palo, due salvataggi sulla linea, abbiamo avuto diverse opportunità di poter vincere la partita, non l'abbiamo fatto, abbiamo anche rischiato nel primo tempo, nell'apertura del secondo tempo una situazione che si poteva evitare, però nel contesto della partita la prestazione è stata buona, nel senso che nell'ultima mezz'ora abbiamo fatto una partita che volevamo, abbiamo giocato bene secondo me l'ultima parte della partita, abbiamo creato tanto, purtroppo non abbiamo raccolto per quello che abbiamo seminato. Ho visto nel primo tempo una catena di sinistra, possiamo dirlo, quasi perfetta del grosso basso sotto l'alto, ha creato tanto? Sì, in quella fase abbiamo creato molte situazioni di pericolo, potevamo passare anche in vantaggio in alcune circostanze, purtroppo non ci siamo riusciti, è mancato l'ultimo passaggio, la conclusione importa, purtroppo non siamo riusciti a vincere una partita che si poteva. Secondo tempo, con i cambi il Pescara senza altro meglio, prima cosa, Mancuso fuori perché era stanco, scelta tecnica, chiedeva qualcos'altro? No, no, per scelta tecnica, l'ho visto un po' stanco, era un po' appannato, è normale che sia così, dopo un grande campionato che stai facendo, ho fatto un cambio per mettere Bellini, per far salire la squadra di più, forte fisicamente, così è stato, ho avuto anche una grande occasione da poter fare gol, peccato perché finalizzando meglio avremmo vinto sicuramente. Ho rivisto anche il capone che conoscevamo qui a Pescara. Sì, Cristian sta salendo, come Sottil, come tutti i ragazzi stanno facendo Antonucci, tutti stanno crescendo fisicamente, la squadra anche fisicamente mi è piaciuta, è molto salita nel secondo tempo, prendo in mano la situazione, un vero peccato, non ho vinto una partita, è stato un vero peccato. Due considerazioni sul futuro e poi una simpatica per chiudere, sul futuro ho visto molto bene Sottil, molto bene Capone, Marras, lei non ci rinuncia mai quanto sta bene, un modulo con tre dietro una punta e un centrocampo a due, lo ha pensato o il centrocampo a tre è imprescindibile? Lo volevo fare nella parte finale della partita per cercare di vincere, però Marras aveva questo problema, gli ho chiesto come stava. In futuro si può fare? Una soluzione che si può anche fare, ma gli ho chiesto come stava, mi ha detto che ci aveva male, non ho avuto rischiare. Come modulo in futuro? Può, può essere, è un'alternativa perché saremo molto più positivi, però bisogna avere equilibrio dietro, alle volte bisogna guardare bene il centrocampo che hai, perciò per quello ci sono delle scelte che bisogna sempre ponderare bene. Levare per rotta a Bettella sarà difficile? Beh, hanno fatto molto bene tutti e due, devo dire che hanno fatto un'ottima partita, sono molto contento per loro. Ora chiudiamo con il sorriso, è stata pubblicizzata questa cena che ha offerto mercoledì scorso, mi dice chi è il giocatore che l'ha divertita di più a cena, visto che ho visto una squadra spensierata con il sorriso, un nome secco, in campo non gli fai nomi, però per una serata sì. No, mi ha sorpreso Mircon Tonucci, non lo facevo così, invece alle volte vengono fuori delle cose che tu non lo sai, magari in occasioni come queste, lui e Sottil, sono state una bella sorpresa. Pillon? Ah, io sono contento di... No, Pillon, come ha risposto la cena? Bene, 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 sì sì, suformeremo. Sono molto contento. Grazie, grazie al tecnico Baby Pillon.